Grazie Presidente, la relazione annuale delle attività della Mediatrice Europea certifica nuovamente l'assoluto valore dell'impegno di Emilio Reilly e dimostra ancora una volta come l'Ombudsman sia un prezioso alleato di questo Parlamento nell'avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, alzando la qualità della democrazia dell'Unione Europea. Vorrei quindi usare questo tempo per ringraziare la Mediatrice e spronarla a insistere con ancora più forza, pretendere maggiore trasparenza dal Consiglio, rafforzare le misure volte a prevenire i conflitti di interesse, vigilare sui fondi europei, combattere le frodi, porre fine in maniera definitiva alla pratica dei tirocini non pagati nelle istituzioni europee, continuando il nostro impegno comune su questo tema. Infine un applauso speciale al suo straordinario lavoro nel promuovere e monitorare la messa in atto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Un impegno, una battaglia giusta e necessaria. In Commissione Affari Costituzionali stiamo lavorando per dotare il mediatore di un nuovo statuto e assicurare sempre maggiore autonomia d'azione a questa istituzione. Ci auguriamo di incontrare la stessa ambizione da parte dei governi in Consiglio. Grazie.